Negli studi di TV City, il sindaco della città di Torre del Greco Giovanni Palomba interviene sulla tragica vicenda costata la vita al 19enne torrese Giovanni Guarino, accoltellato domenica sera nella zona delle giostre a Leopardi e deceduto con un fendente al cuore. La vicenda dell'altro ieri sera accaduto nella zona di Leopardi in un momento di tranquillità, di serenità, di gioia, di ragazzi in un Luna Park, resta per noi, per tutta la comunità di Torre del Greco un qualcosa di agghiacciante nel vero senso della parola. E' agghiacciante inaccettabile quanto accaduto a due giovani della nostra comunità. La violente prematura morte di un ragazzo, brutalmente sottratto all'affetto dei suoi genitori e della sua famiglia e il ferimento dell'amico, colpito con efferratezza inaudita, lascia sconcerto e rabbia in ognuno di noi. Sono profondamente amareggiato da padre e da rappresentante delle istituzioni. Sdegno e indignazione nelle parole del primo cittadino. Nella rissa, infatti, è rimasto gravemente ferito, ma sembrerebbe non in pericolo di vita, un amico e coetaneo di Giovanni. Ho provato ad essere vicino alle famiglie. Ieri sera sono stato a casa dei genitori di Giovanni e a casa della mamma di Nunzio per stare vicino a loro in un momento veramente di grande difficoltà. A nome della città tutta esprimo pertanto la più ferma condanna verso azioni di tale natura e verso ogni forma di violenza che non può trovare alcun fondamento e alcuna giustificazione, nonché profonda vicinanza alle famiglie colpite da questa assurda vicenda. Sono pienamente fiducioso nel lavoro degli inquirenti. Già ieri mattina immediatamente sono stato in contatto con le forze dell'ordine, con la Polizia di Stato, i quali mi avevano più o meno dato tutto quello che era avvenuto e immediatamente, grazie anche all'ausilio di quelle che sono le telecamere di sorveglianza messe in vari punti strategici della nostra città. Già nelle prime ore avevano trovato i due ragazzini che già stavano all'interno della struttura della Polizia di Stato. Adesso sarà l'autorità giudiziaria a portare avanti tutto quello che è avvenuto l'altro i notte. Nulla, sono degli atti che sono impensabili nel vero senso della parola. Cercheremo per quanto riguarda come amministrazione di capire, di comprendere se possono essere fatti dei passi per cercare di dare più tranquillità al territorio. I funerali si deve attendere tutta la procedura per il rilascio della Salma. Dopodiché, immediatamente, vediamo il giorno in cui ci saranno i funerali. È un momento anche di lutto cittadino, di vicinanza a questo, come molti ragazzi lo chiamavano, il gigante buono. Giovanni. Grazie.